Paura a Pettorano sul Gizio per il distacco di alcuni massi da un costone avvenuto questa mattina nei pressi della zona dei mulini, in località Le Pagliaie, non distante dall'abitato del paese. Il terreno è franato portando giù quattro massi, di cui uno del diametro di quattro metri, che fortunatamente sono caduti su un terreno privo di abitazioni e al momento del crollo non era presente nessun passante, ma la preoccupazione è molto alta. Il macigno più grande si è portato dietro gli altri tre più piccoli, che sono caduti in un terreno privato a pochi metri dal muretto di protezione della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. Dopo il sovralluogo, il sindaco di Pettorano sul Gizio, Giuseppe Berarducci, ha provveduto alla chiusura di alcune stalle pagliai che insistono nella zona interessata dalla frana. I vigili del fuoco hanno chiesto un ulteriore sopralluogo per avvalersi della consulenza dei colleghi della provinciale, che dovranno sondare il terreno per valutare la tenuta e il rischio idrogeologico. Non molto distante dalla zona si trovano infatti diverse abitazioni. Il posto della frana è invece costituito per la maggior parte da vecchie stalle in abbandono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.